sap e registro di manutenzione mi è capitato di vedere oggi e altre volte questo problema sap è molto diffuso lo trovo da tantissimi clienti spesso è adatto al cliente all'uso che ne fa il cliente ma delle rigidità che modificare costa molti soldi costa molto per cui spesso si ritrovano delle rigidità che vengono compensate in modi non digitali e vi faccio l'esempio con questo video con la manutenzione e con i fatti collaterali la manutenzione l'esempio di oggi è che hanno un sacco di dita esterne che fanno manutenzioni periodiche di qualsiasi cosa in questa fabbrica sap registra e prevede un calendario di dati dove vengono queste manutenzioni questo calendario non è facilmente modificabile per cui c'è un secondo calendario ufficioso tenuto da responsabile della manutenzione che non c'entra niente come un calendario registrato su sap e quindi succede che c'è un calendario ufficiale un calendario ufficioso e vince quello ufficioso perché poi le cose vengono fatte nelle date ufficiose non nelle date ufficiali ma su sap non è registrato che le cose sono fatte in altra data è registrato che sono fatte una data prevista quindi c'è uno sfasamento delle informazioni secondo problema il nome del manutenzione che fa gli interventi oramai è importante scrivere chi ha fatto che cosa sia per avere una storia degli interventi sia per avere una competenza una conoscenza che ha fatto le cose ma anche per responsabilità penale di chi ha fatto le cose perché se lascio la macchina in disordine o sbaglio qualcosa per cui poi succede un casino e chiamano la persona giusta non la persona sbagliata e spesso con sap aggiornare il nome del manutentore è complicato molto faticoso molto laborioso magari io non l'ho mai usato sap lo vedo usare dagli altri però sta di fatto che per pigrizia per comodità non aggiornano il nome e rimane sempre il nome del solito manutentore anche se magari lui è inferio in malattia o è impermesso o è in congeda parentale come te vuoi tu nel senso per cui gli interventi sono registrati al nome del manutentore solito e non del nome del manutentore vero e questo è già peggio perché questo fa sì per manutenzioni interne che non si sa che ha fatto cosa quel mese lì quel giorno lì terzo i rapportini gli interventi di diritti esterni quando vengono a tarare qualcosa controllare qualcosa revisionare qualcosa banalmente controllare gli estintori devono lasciare un pezzo di carta e non sempre questo pezzo di carta viene digitalizzato archiviato e fatto ma rimane una pila di pezzi carte in giro per l'ufficio tecnico per l'ufficio di manutenzione e come permesso di entrare le informazioni che gli ho dato e questa cosa qua crea confusione e si confusione al termine giusto e qual è il problema il problema è se avviene un infortunio perché se avviene un infortunio una banca dati ufficiale e della documentazione ufficiosa facciamo così domani la banca dati ufficiale la reperisco facilmente la banca dati ufficiosa la reperisco solo se venga aiutato dal responsabile della manutenzione che organizza e usa la banca dati ufficiosa e se quello che si è fatto male è colui che organizza questa banca dati ufficiosa e questi dati non li avrò mai se li devo chiedere in modo collaborativo al fornitore che viene non è detto che me li dia se una persona si è fatta male sul pezzo che il fornitore ha controllato e così via c'è tutta una questione di non detto opportunità che poi dopo gli infortuni si incasina quindi il mio appello è va bene usare SAP va bene sistemi informativi va bene digitalizzare tutto sono d'accordo mi piace tantissimo ma che quello che sul computer quello che è digitalizzato sia coerente con forme uguale veritiero a quello che succede tutti i giorni se no crea problemi grossi spero sia utile ciao